Vincenzo Stranieri, l'ex boss manduriano della Sacra Corona Unita, lascia nuovamente il carcere di Lecce, dove era stato rinchiuso lo scorso 22 agosto dopo l'arresto a Porto Cesario. Su di lui sono cadute le accuse di detenzione di arnesi da scasso e di arma proibita trovati dai carabinieri nella macchina che l'uomo, noto come Stellina, guidava durante un incidente stradale nella località Salentina, dove era stato coinvolto fortunatamente senza feriti. Il Tribunale di Lecce ha accolto la richiesta di scarcerazione presentata dagli avvocati di stranieri Michele Iaia e Lorenzo Bullo. Ora l'ex boss dovrà rispondere solo di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, cui era sottoposto dal 2 marzo, con l'obbligo di soggiorno nel suo comune di residenza Manduria. L'indagato aveva dichiarato al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, Angelo Zizzari, di aver violato la misura per errore. Secondo la sua versione avrebbe dovuto incontrare una persona torre colimena, Marina di Manduria, ritrovandosi poi sulla provinciale 359, dove rimase coinvolto nell'incidente con un'altra vettura, una Nissan Qashqai, mentre era la guida di un'auto con matricola cancellata. Intanto stranieri resta imputato per rapina pluriaggravata nel processo legato all'omicidio di Natale in asserba a Tijari.